Caro Conte, in confidenza un bel pompello di primo mattino è proprio quello che ci vuole. Dice? Però, glielo fa lei a suo marito? Che cose? Il pompello. Ma no, cosa dice? A certe cose ci pensa la cameriera, no? Oh, già è vero, che sbagliato. Per certe cose le cameriere bisogna lasciarle perdere, non è vero? Un lovetto, buono. Finalmente. Qualcosa di concreto, perché fino adesso con la pappata siamo stati un po' scarsucci. Scarsucci. Ma che cosa fa? Nulla. Io, l'ovetto, lo magno sempre così, col guscio, l'uovo e la coccia. Sì, sì, sì. Con tutto con la coccia. Questo è il famoso uovo sfragnato con la coccia. L'uovo alla coccia.